Ringrazio a nome di tutta la pediatria del personale dell'ospedale di Termoli, la dottoressa Carmela Franchella, per aver condiviso, per la condivisione solidale, dell'evento Pijama Run, promosso dalla LIT nazionale, il cui ricavato sarà devoluto alla pediatria di Termoli, contribuendo in maniera così generosa alla realizzazione di un nostro progetto, progetto ospedale dipinto Morales in Corsia. Questa è un'iniziativa abbastanza generosa, a sostegno dei piccoli pazienti pediatrici, che contribuisce a migliorare le qualità degli ambienti pediatrici e quindi, in poche parole, contribuisce al miglioramento dell'umanizzazione degli spazi di cura. Il nostro progetto ospedale dipinto Morales in Corsia, già realizzato in tanti ospedali pediatrici del nostro paese, per noi ovviamente è un progetto molto progetto, siamo nella fase embrionale per essere in tema nella fase iniziale, sarà finalizzato a ricreare all'interno del reparto di pediatria il mondo esterno del bambino, un mondo fatto di colori, di sorrisi, allegria, aiutando il piccolo nel suo percorso, dall'inizio, dall'accesso all'adegenza nella pediatria e in tal caso, in tal modo, aiutandolo soprattutto a superare le incertezze, le paure e i timori che ovviamente un bambino prova quando arriva in ospedale. Ecco, ricordiamo che l'equilibrio emotivo del bambino è fondamentale affinché si predisponga ad un rapporto più sereno, un rapporto diciamo più fiducioso nei confronti del personale sanitario che lo aiuterà nel percorso di malattia e perché no nella sua guarigione. Vorremmo condividere questo progetto con un artista termolese, Sebastiano Bucci, che realizzerà, oggi qui non è presente, fuori sede, realizzerà i disegni murari, la pittura muraria, le rappresentazioni pittoriche con riferimento ai cartoni animati, alle fiabe e perché no anche ad un acquario, così cari ai nostri bambini, sollevando, diciamo, portando allegria, regalando allegria a chi soffre. Quindi vi esorto a partecipare numerosi, mamme, papà e soprattutto voi bambini a sostegno dei vostri coetani malati di tumore. Bambini ricordate sempre che la solidarietà, la condivisione, il fare squadra, tifo è la carta vincente che permette di superare ogni difficoltà, tutelando nel migliore dei modi il bene più prezioso della vita, la salute. Quindi partecipiamo in massa il 20 settembre alle ore 18 in Piazza Monumento per correre tutti in modo sportivo, divertente, in questa corsa in pigiama.